Musica Musica Intanto mi prego di scusarmi ma è una cosa brutta ma leggerò perché come capirete presto si tratta per me di un'occasione di grande importanza e anche di grande coinvolgimento emotivo e voglio dire tutte le cose che sento di dover dire in modo completo e preciso senza correre i rischi che derivano dall'improvvisare. Allora devo anzitutto chiarire che pur non essendo ufficialmente prevista dal programma delle manifestazioni pescasserolesi la presentazione di questo libro è dovuta all'assessore Paglia che ha avuto la cortesia di inserirla nell'inaugurazione della mostra delle fotografie di Saverio Saltarelli e lo ringraziamo. Qualcuno potrebbe anzitutto osservare che si è trattato di una scelta impropria, incongrua, no? Che c'entra infatti la storia del parco con Saverio Saltarelli? Ci si potrebbe chiedere. E beh, per spiegare cosa c'entra vorrei iniziare ricordando una circostanza, alcune cose che dirò sono state già dette, le ripeto cercando anche un po' magari di arricchirle. In internet c'è un bellissimo video realizzato proprio qui a Pescassetoli tre anni fa in occasione dei 50 anni della morte di Saverio e che sarebbe bello poter essere mostrato insieme alle fotografie realizzate da lui. Mi hanno detto che sarà fatto, peraltro. E nelle interviste contenute in questo video, le interviste ai suoi compagni, ai suoi coetanei, ai suoi compagni, viene fuori che nelle riunioni e nelle iniziative che Saverio proponeva e coordinava durante le sue permanenze estive a Pescassetoli ci si poneva anche il problema di uno sviluppo locale diverso da quello imposto all'epoca dalla speculazione edilizia e viene detto in queste interviste anche che questi ragazzi si incontravano con i dirigenti del parco in quelle estati del 69-70. Questa circostanza in realtà io l'avevo appresa autonomamente già otto anni fa nel corso di un'intervista al direttore del parco di quegli anni, cioè Franco Tassi, che non solo mi aveva raccontato quelle riunioni con i giovani, ma aveva voluto sottolineare in particolare il ruolo, l'intelligenza politica e la sensibilità di Saverio. In una delle interviste del video invece, del video realizzato tre anni fa, viene citato da Carmelo d'Arcangelo il Movimento Popolare Alto Sangro, un gruppo di giovani che aveva un ruolo molto importante nel cambiare il colore delle amministrazioni locali e poi a partire dal 74, le prime elezioni furono nel 74 quelle a Pesca Sede, e cambiare il colore di queste amministrazioni e le loro politiche riguardanti l'ambiente e lo sviluppo dell'area. Il Saverio Saltadelli, di Carmelo d'Arcangelo, è stato in qualche modo all'origine di questo ruolo. Per quasi mezzo secolo, dal 70, meno di mezzo secolo, dal 73, quando io ho cominciato a guardarmi intorno, a scoprire il mondo, diciamo così, fino al 2020, per me Saverio Saltadelli è stato poco più che un nome, uno dei tanti, un nome noto, sicuramente, non sapevo chi era, uno dei tanti ragazzi e delle tante ragazze uccisi negli anni 70 durante le manifestazioni, un nome come quello di Giorgiano Anasi, come quello di Giannino Zibetti, di Roberto Francesco, di Franceschi, di Francesco Lorusso, con l'unica nota particolare ai miei occhi che era un ragazzo di Pesca Sede e che era un po' particolare, un po' speciale per me naturalmente. Invece sono stati proprio i materiali prodotti per il cinquantenario della sua morte, cioè tre anni fa, che mi hanno fatto conoscere un ragazzo, anche a me, è stato un nuovo Saverio quello che ho scoperto, un ragazzo molto particolare, un ragazzo di grande intelligenza, un ragazzo curioso, sensibile, dinamico e una figura trascinante a Pesca Sede e destinato sicuramente, io mi permetto di parlarne con grande certezza, forse la storia sarebbe andata diversamente, ma l'istinto, la mia esperienza di tanti anni, mi dice che Saverio sarebbe stato una certa cosa nella vita, destinato sicuramente a un'esistenza ricca e brillante. Ho cominciato in quel momento, quando ho visto questi materiali, a pensare che con il suo omicidio Pesca Sede, il Parco, la Valle, ma anche io stesso, abbiamo perso delle possibilità importanti, delle potenzialità importanti, che la sua morte ci ha privato di quella che sarebbe stata una figura di riferimento assoluto per Pesca Sede e per la Valle. Sono sicuro, anzi, che dalla metà degli anni 70 in poi Saverio sarebbe stato un protagonista di primo piano della vita politica pescasserolese e forse abruzzese, forse anche nazionale, come lo sono stati altri ragazzi della sua generazione della Valle. E lo sarebbe stato sicuramente anche, e sottolineo questa cosa perché è importante, fino ad oggi non avrebbe cambiato, penso io, idee, non avrebbe cambiato l'orientamento. Come è successo invece a molti, in questi decenni. Ho pensato tutto questo, ma ho pensato soprattutto che la sua morte aveva privato me, me personalmente, di quello che sarebbe quasi sicuramente stato un interluttore privilegiato e forse anche un amico, per quanto più grande di me di 12 anni. Una persona con la quale ci saremmo capiti a volo e che mi avrebbe dato moltissimo nel capire pescasseroli, nel capire la valle e farla capire, come negli ultimi 30 anni, me l'hanno fatta capire molte persone, alcune delle quali sono oggi in questa piazza e che facevano parte della sua generazione. Questo l'ho pensato in particolare quando, grazie alle testimonianze del video, ho scoperto della sua passione non solo per la politica, ma anche per la chitarra, per la musica d'autore e la musica politica, per la fotografia. Alla fine degli anni 60 e negli anni 70, per tanti ragazzi e per tante ragazze tutte queste cose, la musica, la fotografia, la politica, erano intimamente connesse, non erano cose scollegate. Il suonare e il cantare insieme, i repertori di canto politico e popolare, di canzone d'autore e il rock, la pratica della fotografia, erano allo stesso tempo modi di interpretare il mondo, di condividere, anche suonando, cantando insieme visioni ed ideali, di immaginare il futuro. E Saverio univa tutte queste cose solo come le persone più sensibili, fantasiose, idealiste e proiettate nel futuro sapevano fare. In molte e in molti eravamo come lui e in questo modo di essere di Saverio io ho trovato questa cifra tipica di quegli anni, forse la cifra che mi esprimeva le potenzialità più belle. Ed è tutto questo che mi dà la certezza che oggi sarebbe stato qui con noi, dopo una vita di impegno, ininterrotto, caratterizzato da lucidità, coerenza e fantasia. Poi la storia c'ha le sue strade, io posso sbagliare, ma io penso di non sbagliare.